questo è un video che può essere utile sia a noi musicisti ma anche ad altri professionisti che si trovano in un momento di difficoltà professionale che voglia in ambito musicale in qualsiasi altro ramo realizzare qualcosa nella vita farai bene a dimenticare e a eliminare questa parola inutile dal tuo vocabolario sostituiscila piuttosto con coraggio e abbinala con determinazione l'unica cosa infatti che può fermare il tuo percorso è proprio la paura conosciamo la paura di essere truccati la paura di non essere all'altezza la paura di sbagliare insomma la paura è proprio ciò che ci limita realmente in quello che facciamo allora dimentica tutto buttati mettiti in gioco sicuramente un domani non avrai il rimpianto di non averci provato una delle cose più importanti che insegno i miei allievi è proprio l'atteggiamento che devono avere quando si fa qualcosa possono essere persone più o meno preparate ma nonostante tu possa essere la persona più preparata se la paura fa parte della tua vita sicuramente troverai ostacoli invalicabili si coraggioso e abbi sempre fiducia di quello che fai e in te stesso pensa sempre e concentrati sul tuo obiettivo che hai e vivi questa sensazione come se tu l'avessi già realizzata con le stesse emozioni questo sarà il giusto carburante che ti permetterà di proseguire nel tuo percorso con grande determinate allora prendi le tue paure a calci e falle uscire dalla tua vita io non sono di certo un guru o un formatore però nella mia esperienza ne ho vissute tante quindi qualche consiglio te lo posso dare se credi che anche i miei consigli ti possono interessare e essere utili allora iscriviti subito al canale attiva le notifiche e continua a seguirmi non esitare se hai qualche domanda specifica a scrivere qua sotto nei commenti vi aspetto alla prossima ciao